Buonasera, Maria Luisa Busi, giornalista, volto storico della RAI e ora anche autrice. Come ti senti in questa parte di intervistata? No, partiamo prima dal qui e ora. Come mi sento? C'ho la pasticca di Valeriana che è mandata di traverso. Ah, di Valeriana? Sì. È un classico questo. Isabella Ferrari venne con il RaiSQ. Valeriana. Sì, è la prima volta, sì. Perché non faceva ascolto. E perché non faceva ascolto? Non faceva ascolto perché il pubblico, siamo in democrazia e c'è la democrazia del telecomando, quindi non bisogna accusare il pubblico. Se non faceva ascolto probabilmente non interessava molto. Tu invece rimani inviato del... Io sono inviato a RaiSQ. Io sono inviato a speciale, sì. Ma in questo momento da chi dipendi? Tu hai chiesto a Minzolini il permesso di venire qua stasera? L'ho chiesto a Paolo Ruffini e alla direzione del personale. Quindi adesso tu rispondi a loro? Beh, sì. Io rispondo comunque alla Rai. Io non sono una dipendente dei Minzolini né del Tg1. Sono una dipendente della Rai. Sono una giornalista del servizio pubblico, dipendente comunque della direzione generale, della direzione del personale. Hai la giustificazione? Volevo essere sicura di questo. No, potrei anche mettermi un cartello e parlare qui dal consigliere nazionale dell'FNSI, così qualunque cosa non potrà essere ritorta contro di me. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Non te l'immagini. Sì, sei divertita. Ho fatto una piccola sceneggiatura mia, vedi, ho un po' evidenziato. Adesso provo e vado. Allora, siamo a pagina 170. Il capitolo si intitola Non è un paese per donne. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Non te l'immagini, vero? Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Non te l'immagini, vero? Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai. Però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Non te l'immagini, vero? Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Non te l'immagini. Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Sì, sei divertita. Non te l'immagini. Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Chissà qual è. Eh? Non te l'immagini. Sì, sei divertita. Guarda, non lo faccio mai, però mi sono talmente divertita a leggere questa scena. Sì, sì. Non te l'immagini. Sì, sei divertita. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie per la visione!